questo è l'ultimo video fatto a scopie e da quella parte c'è il centro dall'altra parte del fiume c'è il centro anche dall'altra parte del ponte c'è il centro quindi da questa parte della città ma questa è ancora scopie questo video si chiamerà appena fuori da scopie o qualcosa del genere appena fuori scopie appena fuori dal centro perché non è scopie c'è scopie qua dobbiamo arrivare alla stazione degli autobus che comunque sta a tre minuti, sta tutto relativamente vicino a scopie ostello a due minuti dalla stazione degli autobus, centro a dieci minuti dall'ostello stazione degli autobus a quindici minuti dal centro a piedi tutto perché si risparmia un minuto perché non bisogna attraversare la strada con due semafori in più ecco e poi sta a baracopole questo fai video dentro a un parcheggio è proprio così tutta la zona ecco io i macedoni sorridono tutti poi se vivono dentro una baracca di pollo a mezzo non è nemmeno una baracca che sono fatte della miera certe cose però qui siamo veramente a 5 minuti al centro ecco in fase di ricostruzione o costruzione o ricostruzione della costruzione o costruzione della ricostruzione ci vediamo per strada verso la bulgaria ciao 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 ciao